Siamo al Mugello, buongiorno a tutti, oggi entriamo in pista con la BMW M2 di Alan Simoni Nasce un nuovo progetto di officina del pilota Rimani connesso fino alla fine del video per capire bene di cosa si tratta Mettiamo a disposizione un'auto da corsa e un vero pilota per una drive experience in pista veramente unica Questo video vi darà un'idea di come sarà per voi Prima di catapultarvi in questo progetto volevamo testarlo sulla nostra pelle Ti consiglio infatti di iscriverti a questo canale adesso e di attivare la campanella per ricevere le notifiche e gli aggiornamenti dei nuovi video che usciranno Buona visione Sono in macchina con Alan Simoni, finalmente, non vedevo l'ora ragazzi, che bello Allora, San Donato, accelero, sto stretto Un po' di freno, terza, dentro, ritardo, sto stretto qua Mollo, per inserire, rido gas a metà curva e vado via Mori più che posso, più veloce che posso Freno, terza Dentro, subito di qua, gas, ho tolto il gas nel cambio di direzione per dare più impronta a terra Terza Quarta, show shifting, dentro Gas, la lascio scorrere tanto Lo infiliamo qua all'arrabbiata 1 Un po' di freno per dargli l'inserimento Gas Di gas si allarga Mollo Un coppettino di freno per essere sicuri E gas E' tutta gomma questa, non ti preoccupare Bello Freno Terza No, quarta, scusa Terza Dentro E gas Arriviamo al correntaio Freno Molto morbido Però lunga E la porto dentro la frenata Per tenerla giù Un po' di gas Vado circa metà pista Marcia Dentro biondetti 1 Biondetti 2 Marcia E la faccio sfogare La freno il meno possibile di sterzo Freno Morbido anche qua La porto dentro La frenata Un po' largo Poi da sola va dentro Con il gas L'accompagno E' un po' di gas Preno Un filo di gas La forza G Che piega le GoPro Grande Alan Andiamo Un'altra cosa In macchina con Alan Ragazzi Un altro pianeta Sono venuti i brividi Preno Mamma mia Si è arrivato forte Lì sopra Quasi Quasi lungo Spettacolo Vai Finito Bandiera a scacco Bellissimo Alan Bellissimo Io ho provato diversi sport Diverse cose Però Le sensazioni che mi dà l'automobilismo Le emozioni Sono tutte una serie di cose Che sono difficili Da descrivere Ayrton Senna diceva sempre Che il casco nasconde Emozioni Che nessuno può spiegare O può capire Ed è vero Io lo provo Veramente sempre La sensazione che tu hai Quei pochi secondi Prima del via Quando ti si accende Le cinque luci del semaforo Sono cose indescrivili Guarda mi sta venendo La pelle d'occa Ti capisco E' una roba Quei pochi secondi lì prima C'hai il battito A 180 Hai l'adrenalina Hai paura di sbagliare Hai paura di sbagliare La prima curva Hai paura di entrare In contatto con gli altri Sono emozioni Che solo lì Io ho provato Non ho mai provato Nulla di simile Solo quello Te lo può dare Però Sotto Ci deve essere Una grande passione Ovviamente Enorme Enorme Siamo dentro Ragazzi Pronte Il mio maestro Prontissimo L'applicazione pronta L'applicazione pronta Si parte Mi raccomando L'artumento delle linee bianche A più in fondo alla curva Senza entrare in pista Prima è finita Grazie Qua ritardi un po' L'ingresso Stai stretto qua Per poi impostare Aspetta un attimo Perché chiudi alla fine Chiudi qua E poi la lasci scorrere Ok Dentro adesso Gas Bravissimo Molto bene Poi subito a sinistra Vai dentro Senza gas Bravissimo Gas Molto bene Freno Terza Gas Bravissimo Bello Bravissimo Ottimo Freno Non stare qua sul cordolo Ok Dentro Bravo Dopo non toccarlo Il freno Tra un cambio e l'altro Togli solo il gas Togli Bravissimo Aspetta Chiudi adesso Gas E lasci sfogare E' molto importante Aprire lo sterzo In uscita Bravo Freno Freno Ancora un po' Ancora un po' Ritarda un po' L'ingresso I panettoni gialli Sono i punti di corda Freno 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 Porta dentro la frenata Porta la dentro Bravissimo Così Via Ok Visto come fa Come rientra Dentro Dentro Subito Subito A destra Apri Lo sterzo Freno Ancora Ancora Via il freno Stai così Aspetta a dare gas Chiudi Chiudi un po' Apri lo sterzo Gas Bravo Gas Bravo Ottimo Un po' Di freno Dentro Bravissimo Aspetta Con gas Non avere fretta Vedi come ha allargato Stai stretto 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 Gas Lascialo andare Bravo Anche perché questa tende a scappare dietro Freno un po' Via il freno Arca miseria Impostala Ok Qua affondi Affondi il gas La fai sfogare Bravissimo Chiudi dentro Di qua Benissimo Via il freno Via il freno Vai Freno Stai un po' più stretto Via il freno Dentro Occhio Subito Subito destra Bravissimo Gas Molto bene Mancano 6 minuti Freno Ancora Dentro Vai dentro Ok Stai qua Stai qua Gas Bravissimo Chiamala Chiamala Freno Terza Via il freno Dentro Gas Apri Bravissimo Ottimo Dentro adesso Lasciala andare Lasciala andare Bravo Bravo Ok Senza freno Senza freno Dentro Aspetta Gas Aspetta Aspetta Entrare Dentro Largo Gas Molto bene Freno Forte Portala dentro Portala dentro Via il freno Gas Subito 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 destra Molto bene Ottimissimo Molto bene In tutte le curve Entra sempre col freno Sì Perché ti aiuta tantissimo Entrare Via Freno Gas Bravissimo Ma per mantenere i freni Sani E non Cristalizzarli E non Ovalizzare i dischi Robbe così Mezzo giro Un giro E' importantissimo Raffreddare i freni Sempre 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 Perché se no Entri E fumano E poi dopo Non frena più come prima Serve proprio per mantenere in salute tutto l'impianto Quello che ho capito appena uscito dalla pista Che era meglio se non entravo Perché c'erano delle Porsche e delle Ferrari che venivano su C'erano dei missili per aria che ci passavano da tutte le parti L'Italia è l'università dell'automobilismo e ci sono tante facoltà Le facoltà sono gli autodromi quindi Mugello è una facoltà difficilissima è un esame Da preparare super tosto però ti insegna tantissimo poi dopo ci sono altre facoltà c'è Monza, Imola questi i maggiori autodromi italiani sono delle delle lezioni degli esami Da preparare che sono incredibili no è importante Prepararsi e conoscere bene le piste dove si va a girare Anche con un simulatore anche con la Playstation Però girare sapere che la prima curva si affronta in seconda marcia Sui 60 all'ora che poi la velocità è relativa perché dipende dal mezzo Però si affronta in secondo in terza che chiude tanto oppure apre Oggi i simulatori sono talmente precisi talmente fatti col GPS Che quando ti ritrovi in pista dici cazzo è proprio così E' proprio vero quindi il virtuale serve tantissimo oggi a prepararsi per guidare bene poi nella realtà Esatto a proposito di realtà questo nuovo progetto sta per partire Metteremo a disposizione un'auto da corsa e Alan Simoni Non dimenticate di seguire la sua pagina Mentre per le informazioni di questo nuovo progetto dovete seguire il profilo Instagram Officina del Pilota Cioè il mio Possiamo organizzare e dedicare una driving experience personalizzata per ognuno di voi Come quella che abbiamo fatto noi Gratis tra l'altro Mi raccomando condividete questo video sul vostro Facebook Non vi iscrivete al canale Lasciate i bandi di iscrizione al canale Come no? No! Come tutta la vita! Fanno quello... Tu è una tecnica come quei bambini Non lo fanno Allora ieri Non iscrivetevi Non iscrivetevi a questo canale ragazzi Condividi questo video su Facebook Però Tra due settimane Chi non si è iscritto a questo canale Non guiderà mai più in pista Certo Neanche com'è Rifiutato A prescindere Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi